Dicendo che nonostante ormai ci siamo abituati a questo giorno straordinario appalazio Marino che grazie a Eni è un rapporto che ci ha mai consolidato, la città riceve le vicine internazionali però devo anche dire che questa abitudine ci pone sul modo evitare di valutare con entusiasmo quello che oggi ho spuntato in sala Lessi, credo che questo concetto di opere d'arte migrano secondo però delle strategie che in questo caso non sono di nero scanto, sono legate a un progetto di valorizzazione delle opere del loro contributo, in questo caso una serie di istituzioni di istituzioni politiche, culturali a Milano, tutto questo va sottolineato con grande forza studiamo un'opera che ha illuminato il schiccetto francese ma che ha delle radici forti nella cultura rinascimentale, nel posto rinascimentale italiana e credo che sia l'avestimento che la qualità delle opere, come dire, sia di assoluta eccellenza, in questo io ringrazio ringrazio il presidente Scarmini qui, cedo la parola, grazie all'interno all'assessore Boeri e poi naturalmente a Vincent Comarente, direttore del Dipartimento di Cultura dell'Uno e alle nostre due curatrici professionali, Daniela Stolte e Valeria Mergine. Poi mi ha chiamato il sindaco che non è qui ma so che verrà nel contenuto all'apprentino della nostra opera. Allora, due parole sul passato, poi mi ricordo l'assessore che forse queste cifre non le ha in mente. Noi abbiamo iniziato questa iniziativa quattro anni fa con un strumento Caravaggio, abbiamo poi proseguito con un neonato l'anno scorso profiziano. Siamo basati da 140.000 visitatori dello splendido Caravaggio ai 190.000 della donna allo specchio della nostra. Quindi abbiamo costruito un successo in quest'idea dell'opera unica e quest'anno veramente l'opera unica sono due, insomma il concetto è lo stesso e siamo molto contenti di questa nostra attività sul piano culturale che è un combinato di una formula di successo e devo dire della sala di sì perché è un posto più centrale, più strategico che ci l'ha immaginato, quindi è un successo che condividiamo e condividiamo interamente. Allora, perché secondo noi abbiamo visto successo? Secondo me ci sono tre ragioni fondamentali che stanno alla radice di questo successo di pubblico. Il primo è che abbiamo esposto sempre delle opere straordinarie, straordinarie nel passato sia per la qualità che per la rinnovanza. Quest'anno cerchiamo di giocare una carta un pochino più audace perché della tour non è in Italia certo conosciuto come il grano o Caravaggio. Però sempre delle opere sono eccezionali e secondo esposte in un modo eccezionale e con un percorso culturale che cerchiamo di delineare che rende le opere più complessibili e più rapportate di tutti. Quest'anno in particolare ci sentiamo molto alla scuola e a tutta una serie di programmi che hanno al centro dell'alto naturalmente ma che mostrano gli studenti i percorsi culturali che hanno portato il pittore, il pittore, il pittore, il pittore, il pittore dell'inascimento dell'inascimento italiano e di come rimbalzato in Francia e così via. Bene, la terza ragione sta nel fatto che su questa innovazione presentiamo un'opera un'opera unica e veramente l'anno scorso se uno si metteva ad ascoltare quello che facevano i milanisti che in queste cose sovietiche che si svolgono qui davanti i giorni di Natale per vedere l'opera, a noi mi piacciono moltissimo, quando vengo qui ho detto la cosa sono tutto contento, no? Dicono, a beh, meno male che c'è questa tradizione. Allora, l'idea di aver costruito una tradizione sull'innovazione nel centro di Milano è per noi un motivo di grande, di grande e orgoglio. Quindi grazie al Comune che ci consente di presentarci ai milanisti in questo modo innovativo e che in supporto nonECSO cresciuta. Grazie. Grazie mille ! Grazie mille ! E per il관istico da direttore che ci ha commento? A direttore. Io vorrei prima presentarci ai milanisti con il nostro Presidente e direttore che per la prima settore, non ha potuto venire questa luce per noi Grazie, innanzitutto vorrei chiedere un scuola al nome di Omi Wallet, il nostro Presidente e il Direttore Generale, che per la prima volta non è potuto venire oggi a Milano, perché è tratenuto la rigida del Consiglio di Administrazione del nostro museo. Però mi ha chiesto di leggere di voi un messaggio. Chers amici, il da due anni j'avais eu il plaisir e l'onore d'être parmi vous pour présenter au Publique milanais le Saint Jean Baptiste de Léonard de Vinci. Lui l'an dernier se fiu un cher oeuvre de Titien issu l'Ecole de Sang du Louvre, merveilleusement mis en valore dans ce magnifique Palazzo Marino. Due anni fa avevo avuto il piacere e l'onore di essere insieme a voi per presentare al pubblico milanese il Saint Jean Baptiste di Leonardo da Vinci. L'anno scorso un capolavoro e il più apprezzato il pubblico, Georges de Latour, che noi siamo heureux di presentare Milano fino al mese di gennaio. Quest'anno ancora il Louvre è accolto a Milano dove grazie ai rapporti stretti e duraturi che ci miscono a Milano, siamo lieti di presentare due nuovi tavolavori di uno dei pittori vancesi più novi e più apprezzati dal pubblico, Georges de Latour, che siamo felici di presentare Milano fino al mese di gennaio. Il s'agit de deux oeuvres d'une beauté étourdissante, du maître des lumières et des clairs oscurs. Il s'agit di due opere di una straordinaria bellezza del maestro delle luci e del chiale oscuro. Par la foie di Vincent Romarelli, direttore del departement des peinture du Louvre, la vraie je coupe parce qu'elle è qui lui viene di moi, donc je ne l'ai dit pas. Je voudrais remercier le ministère des biens pubbliques et des activités culturelles, la mairie de Milano e son maire, Giuliano Pisacchia, sans qui cette présentation excepcionnelle non le puoi voir di più. Attraverso la voce di Vincent Romarelli, che è l'archivettore del departement des peinture del Louvre, e qui in Italia, non leggo da parte del messaggio perché sta dicendo bene l'iné, vorrei ringraziare il ministro per i beni pubblici e le attività culturali, il comune di Milano e il suo sindaco Giuliano Pisacchia. C'è di nuovo che sta presentazione eccezionale e non avete molto più essere. Je veux également un rentrommage a Elie, première entreprise italienne et grande licelle du Louvre, qui nous accompagne fidèlement et rende possible la tenue de grands événements tels que celui qui vous réunit aujourd'hui et ceux qui se tiendront dans les années à venir à Lisanne ou à Paris. Merci, cher Paolo Sicaroni, pour votre soutien précieux, pour votre engagement indéfectible à nos côtés, qui nous permet ensemble de rendre les collections du Louvre accessibles au plus grand nombre. Desidero, altre si, dite l'omaggio a Elie, prima azienda italiana e grande vicinale del Louvre che ci accompagna fedelmente e fa sì che possano essere realizzati grandi eventi come quello che oggi ci riunisce e quelli che si svolgeranno in futuro a Milano o a Parigi. Merci, cher Paolo Sicaroni, pour votre soutien précieux, pour votre soutien précieux, pour votre soutien précieux, qui nous permet ensemble de faire que les collections du Louvre soient plus accessibles au Louvre. Alors, il me laisse ensuite le soin de remercier les gens qui ont travaillé sur ce projet, et je voudrais commencer tout d'abord, je ne vais pas rassurater de citer tous les protagonistes de cette aventure, puisqu'il y en a beaucoup, je voudrais d'abord remercier les trois personnes qui scientifiquement ont porté cette exposition, il y a Valeria Merni et Daniel Astorti qui sont ici même, qui vont prendre la parole ensuite, qui sont les deux commissaires de l'exposition italienne, et qui ont oeuvré pour permettre à la fois l'exposition, la présentation des oeuvres, et le catalogue de l'exposition que vous découvrirez ensuite. Poi, il teatro mi consente in tasca la possibilità di ringraziare tutte le persone che si sono appropriate per farci che questo evento fosse organizzato. Non vi farò l'élimo, ovviamente, di tutti i numerosi protagonisti che vi hanno preso parte, però voglio ringraziare tre persone particolari che dal punto di vista scientifico hanno consentito l'evento. Valeria Merni e Daniel Astorti che parleranno tra poco, e grazie al cui lavoro è stata realizzata questa mostra e anche il catalogue. Grazie a tutti. 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 dei dipinti e del lungo e anche del dibattimento che è gestito da Cristofo Managhi e più presente dello sviluppo e mecenatismo. E vorrei ringraziare anche tutti i collaboratori del DEMI che si sono adoperati per questo evento. Adesso è con grande piacere ovviamente che abbiamo lavorato insieme, ma devo dire che è diventata un'abitudine, un'avventura e ogni anno, appunto, cerchiamo di liberare, sperando di poter proseguire in questo Paternata. E io terminerò in vi dicendo che c'è molti ragazzi, d'explicazioni a presentare Giorgio della Tour in Italia, tra l'altro perché non lo sappiamo, sempre oggi, se è venuto in Italia per découvrir il Caravaggio e il Sino di Gugnale in Francia, le ragioni scientifiche, quindi. Ma prima cosa, io credo che è importante inserci là-dessus, il piacere che vogliamo proposare al pubblico della scuola di un grande artiste. E spero che durante la periodo di l'exposizione, l'anno potranno venire a guardare di molto presto questi due chef d'arri e, d'abord, prima di tutto, prima della connessione, prendere il plaisir in regardant ses œuvres. E per concludere, vorrei citare i motivi che ci hanno portati a presentare Giorgio della Tour in Italia quest'anno. Non sappiamo ancora, e questo è il lato scientifico, se la Tour sia effettivamente venuto in Italia per scoprire Giorgio della Tour oppure se lo abbia scoperto in Francia. Ma al di là appunto dell'aspetto scientifico è soprattutto un piacere e per noi fare in modo che il pubblico milanese scopra il piacere di scoprire questo grande artista. Speriamo veramente che prima ancora della conoscenza di questo artista, il pubblico milanese che verrà a vedere questa mostra possa appunto trovare il piacere della scoperta di questi nuovi libri. Siamo di fronte alla scala, quando si va ad ascoltare un'opera milica che si fa appunto per il piacere di poterlo fare, spero che farete altrettanto regandomi a Palazzo Narino. Vi ringrazio. Grazie. 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 Io e Daniela, Daniela e io, siamo seduti per il quarto anno di seguire a questo tavolo, è un grandissimo onore per noi, ringraziamo il comune di Milano che è ospite straordinari di questo evento, ringraziamo soprattutto Eni che è organizzatore, produttore e il Museo del Lucro che è un partner insostituibile di queste nostre mostre. Non ci dilucheremo sulle spiegazioni dei quadri, quanto nella presenza di persone molto più autorevoli di noi, lasciamo a loro magari dopo la possibilità di spiegare e di spiegare clinicamente. Quello che mi interessa molto è quello che diceva prima in San Pomarelli sul fatto che questo straordinario pittore, che forse è meno noto ma sicuramente non meno importante che gli altri che abbiamo portato qui a Palazzo Narino, è legato ad una importante ricerca che attualmente ancora è in corso sul suo percorso di formazione. Il fatto che John D'Arto sia venuto in Italia o no è un fatto che non è comprovato da tutti, ma è sicuramente nella successione del suo modo di dipingere. In realtà nella sua vittura è una straordinaria sintesi del caravaggismo che aveva ormai marcato le albi e quindi era molto nostro in Francia e in tutto il resto d'Europa, ma anche della cultura nordica, della pittura pianica. Questa unione, questa sintesi di queste grandi culture, di queste grandi scuole pittoriche è, secondo me, il significato profondo della pittura di Sciocciole Latour. E in questo momento storico in cui noi cerchiamo di conservare le nostre identità ma nello stesso tempo di condividerle, soprattutto in Europa, siamo molto contenti di presentare questo pittore che è proprio il simbolo della sintesi, dell'unione di culture diverse, di stili pittorici diversi, di tradizioni che vanno, di un'arte, diciamo, senza confini, non di un'arte contratta su se stessa, di un'arte aperta alla conoscenza e ai cambi culturali. L'altro elemento che ci interessa sottolineare è un elemento che accomuna questi due dipinti, cioè la figura di San Giuseppe Fallegname, di San Giuseppe che in un dipinto è Fallegname, è quello, normalmente nell'iconografia tradizionale la figura di San Giuseppe è spesso un po' defilata, la sua posizione è sempre un po' distaccata anche nelle scene della natività e della tradizione dei passori, perché sembra ancora un po' con un peso, diciamo, incerto. In entrambi i dipinti di George e della Tour, come peraltro anche nella natività che noi abbiamo confrontato nella tradizione dei passori di Caravaggio, di Messina, San Giuseppe assume un'importanza invece considerevole. Questo è un argomento che ci permetterà nel corso della mostra di dedicare degli incontri a questa idea di rapporto tra padre e figlio, ma anche come figura paterna, cioè anche non legati, ecco, proprio all'idea di un padre, di un figlio reale, ma anche di un padre reputativo, di un padre che è un spirituale. C'è una serie di elementi che possono scaturire da questa osservazione di queste due figure. Nel primo dipinto dell'adorazione il padre illumina con una cartella le prime ore della vita di suo figlio, nel secondo dipinto, come vedete, è il figlio che illumina la scena di lavoro del padre. Sono due dipinti assolutamente religiosi perché sono due dipinti che con un'inconomera via sacra, ma c'è anche un bellissimo sentimento della miscindarsi del rapporto padre-figlio, cioè, comunque è naturale evolversi in una situazione di tipo familiare, di vita familiare, che è anche una delle caratteristiche di George Della Sua, che è un pittore semplice, ma non un pittore povero, come purtroppo qualche giornalista ha scritto, ma è un pittore semplice ed elegante, questo è il suo grande segreto. Vi invito a vedere i quali che vi sorprenderanno, due cose ancora sulla mostra e poi vi lascio. Noi spieghiamo assolutamente un dipinto unico e quest'anno i dipinti sono due, ma questo non cambia il nostro stile di fare a mostra. Cioè noi ci concentriamo su un'opera in modo da estrarre da quest'opera mille spunti, mille possibilità di ragionamento, il studio della tecnica della storia dell'arte e del periodo, davanti sulla conservazione, moltissimi elementi possono essere filtrati attraverso la regione di un'opera unica. E proprio per questo l'allestimento fatto con Elisabeth Reci, che secondo me è di grande importanza in questo contesto, permette alle due opere di essere nella stessa sala, ma di conservare la loro unicità, di essere viste per la loro unicità. Ringrazio moltissimo tutte le persone che lavorano a queste esposizioni, che sono tantissime, molte non vengono mai nominate. Ringrazio altri progetti che cura la realizzazione di questo. Come si chiama il Paolo? Come si chiama il Paolo? Come si chiama il Paolo? Allora, mi chiedo che fanno le luci che organizzano l'illuminazione del dipinto e che lo fanno con una condizionità straordinaria, che sono illuminati da un'altezza impressionante. Insomma, la luce è assolutamente focalizzata solo sulle opere. È un effetto, vedrete assolutamente stradeale, c'è una competenza enorme dietro a tutto questo. Ringrazio il Gopion che fanno queste teghe, che sono famose in tutto il mondo. Noi abbiamo qui, in Tresano, su una video di più grandi, professionisti di questa tecnologia.